Ti volevo chiedere una cosa. Tu, che cosa ne pensi del matrimonio? No, 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 non ne fai così, no. Non è che quando ti fai la ceretta, ti do fastidio. Scusami, tesoro bello, scusa. E a Maria, che ne pensi tu del matrimonio? Che ne penso che... Che ne penso tesoro, che prima o poi uno si trova sempre davanti a quel fatidico vivio. O ti sposi o ti lasci. Lo so, più che un vivio è un chitabivio, lo so, hai ragione. Tu ti sei lasciata? No. Quindi ti devi... Mi devo sposare. Eh, bravo tesoro, dai, ci vediamo fuori dalla chiesa perché sono un attimo impegnato, dai. No, Mariano, per favore, io ti ho fatto una domanda. Che cosa ne pensi del matrimonio, ah? E che ne penso del matrimonio? Con Raul c'è stato amore a prima vista? No, è stato un sentimento che così è cresciuto poca alla volta. È meglio così ottimo. Per esempio con mamma c'è stato l'amore a prima vista con papà. Infatti glielo chiesi mamma, ma con papà c'è stato l'amore a prima vista e mamma dopo 30 anni di matrimonio mi ha risposto. Con tuo padre c'è stato l'amore a prima vista. Mi è un schifo che è continuato per tutta la vita. Ferma! Che, Mariano? Ci ha ingarrato il capello. Guardo che ti ascolta.